Di servizi e anni di attesa per avere una risposta, stiamo parlando delle problematiche legate all'ASL, in particolare i 5 Stelle hanno fatto questo esposto proprio sull'uso della PET che sta creando grossi problemi a chi ha malattie oncologiche tra l'altro. Sì, sono passati ormai due anni da quando io depositai un esposto e feci un'interpellanza indirizzata all'assessore Veri per capire per quale motivo quello che doveva essere il noleggio temporaneo della PET-TAC nell'ospedale di Chieti durava in realtà da 8 anni. Ora di anni ne sono passati 10, si va avanti di proroga in proroga in questo noleggio che costa oltre 500.000 euro l'anno. Calcoliamo che una PET-TAC nuova costerebbe 2 milioni di euro per cui in 10 anni ne avremmo comprata più di una. È uno sperpero incredibile di denaro pubblico e di risorse della nostra ASL, ma è anche un disservizio straordinario, non soltanto per i malati oncologici, anche per tutti quei pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative. Entrambe queste categorie di pazienti si sono già viste molto penalizzate a causa del Covid e dei ritardi, come dire, di seguire un po' l'emergenza che c'è stato negli ultimi due anni. E adesso, ancora una volta, nonostante le promesse, nonostante gli annunci, nonostante i proclami di questa giunta regionale, la PET-TAC nuova non si vede. Per quanto riguarda un altro disservizio legato alla ASL, c'è il problema delle lunghe file, delle lunghissime attese al pronto soccorso. Su questo versante cosa state verificando? Dunque, innanzitutto verifichiamo la totale assenza di comunicazione da parte del direttore Shell, cioè noi cerchiamo di accedere agli atti, di acquisire documenti, ma la direzione generale non ci fornisce atti, tanto è vero che anche su questo io mi sono vista costretta a depositare un esposto che pende in procura. Per cui, formalmente, non abbiamo atti perché la direzione generale si rifiuta di fornire degli atti. Inoltre, io riscontro dei gravi problemi, molto probabilmente, di organizzazione anche all'interno della direzione generale. È vero che l'ASL avrebbe bisogno di più personale, ma è compito appunto della direzione generale preoccuparsene. Quello che posso dire anche in questo caso è che anche in questo caso l'assessore Verì, purtroppo, è a conoscenza della situazione, è a conoscenza delle lamentele di tutti i pazienti relativamente alle file interminabili nel pronto soccorso e a conoscenza delle nostre lamentele nei confronti del direttore Shell e quindi della direzione generale relativamente alla mancata comunicazione dei documenti, ma non fa niente.